Perché dal momento in cui il ladro ti entra in casa, sei peggio del ladro che ti entra in casa se ti permetti di ammazzarlo. Chiamo le forze dell'ordine, le forze dell'ordine arrivano prima che il ladro possa andare via, sai? Ci sono tanti modi per provare a risolvere questa situazione senza rovinare la vita di qualcuno. Buongiorno ladro, mi dica che ora è. Non l'aspettavo così presto, metto su un caffè. Volte rubare il mio PC o il Mac. Ne posso fare anche un P-Day. Ci sono tante cosine da rubare. Television al plasma, la Nintendo al mio iPad. Faccia con calma, non voglio disturbar. E si copra quando esce di qua.